buonasera a tutti e ben ritrovati il nostro classico appuntamento serale questa sera abbiamo un appuntamento un po particolare un po fuori ecco da quelli che sono i nostri standard perché invece invece che ecco presentare qualcuno di esterno insomma un collaboratore che abbiamo incontrato nell'arco insomma degli anni che abbiamo incrociato per la nostra strada questa sera andremo invece a conoscere la storia di una delle nostre stelle invece la nostra stella polare se vogliamo perché è stato il primo ecco a credere in questo in questo progetto il primo che ha dato anche delle opportunità ad altre persone tra le quali il sottoscritto e che insomma ha creduto in quello che è un po il nostro il nostro spirito il nostro motto ovvero che l'unione fa la forza ovvero se si riesce insomma a mettere in squadra più persone che hanno la voglia la passione la dedizione per condividere un obiettivo allora si possono raggiungere veramente dei risultati strabilianti senza avere ecco un particolare talento all'inizio ma solamente la buona volontà la voglia veramente di creare qualcosa di grande e questa persona nel nello specifico è il mio collega il mio amico stefano corvi che stasera insomma si racconterà noi quindi non voglio rubare altro tempo e passo la parola stefano e genericamente insomma ti chiedo di di presentarsi un po a tutti noi grazie andrea ciao buonasera benvenuti a tutti e grazie per l'incomio iniziale ecco non non mi aspettavo tanto figurati sono altro che stella porale sono semplicemente un umile soldato che ha deciso sia per scelta lavorativa ma anche ovviamente morale poi lo vedremo di intraprendere questa strada stasera vi vi annoierò giusto una mezz'oretta andrò a raccontarvi un po quella che è stata la mia carriera diciamo da traders alle primissime armi a traders catastrofico a traders che aveva seriamente pensato di di smetterla traders che ha avuto un'ultima opportunità stavolta la presa al volo e adesso come sapete mi avete avuto in diretta alcuni di voi che li saluto e li vedo presenti anche questa sera nonostante le decine di ore di diretta che gli stiamo sparando sono venuti a sentirmi vi ringrazio buonasera e benvenuti racconterò la mia storia e stasera spero comunque di darvi un'ispirazione soprattutto chi si sta approcciando a questo a questo mondo vedrete che me ne sono davvero successe di tutti i colori quindi se davvero volete una cosa ma è di sperare credeteci fino in fondo e poi vedrete quantomeno nel personale cosa mi aspetterà nel 2016 quindi già adesso vi dico che tutti i sacrifici che ho fatto in questi anni sono stati ricompensati e con gli interessi prima di raccontarvi un po' di me vorrei un attimo dare gloria e merito a questa persona che nello specifico è mio padre lo vedete qua mezzo sorridente lui portatili non lo molla mica nonostante gli abbia comprato anche diversi monitor a lui sta bene i book nel suo portatilino da 17 pollici questa foto non è ovviamente del 1996 ma è dove per lui tutto iniziato io ero neanche forse un ragazzino adesso senza entrare nei dettagli dell'età la conoscete però non voglio fare il fenomeno da circo che già da piccolino affrontava i mercati finanziari non è che li affrontavo diciamo che grazie comunque a mio padre sono stato indirettamente coinvolto in questa avventura sono un grande amante dei numeri e della statistica e come tale mi ha contagiato in questa sua avventura lui dipendente della Snam Progetti di San Donato Milanese nel fine 1995-1996 ha avuto l'opportunità prima che la Eni facesse un'offerta pubblica di acquisto per tutti i sottoscrittori delle loro azioni ha chiesto ovviamente prima agli impiegati adesso la storia è precisissima non la ricordo perché ripeto ero poco piccolo 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 se volevano comprare loro queste azioni e mio padre le comprò per 5200 lire eravamo in prossimità del boom che aveva poi investito tutti i mercati finanziari era in un'era in cui immaginate che la maggior parte degli strumenti finanziari non c'erano i future erano totalmente per gli addetti ai lavori così come le opzioni c'erano un po' i warrant ma fondamentalmente il mercato era considerato un mercato italiano non c'era neanche l'opportunità di andare short quindi si poteva solo comprare uno strumento con la speranza che questo strumento salisse di conseguenza il mercato è stato quasi preso da un'ondata di euforismo barra ottimismo che ha portato veramente le quotazioni della maggior parte di tutte le società presenti in quel momento a livelli stratosferici mio padre quindi ha cominciato a estendere questo suo piccolo portafoglio che comprendeva solo azioni Eni e ha fondamentalmente quasi tutti i titoli presenti nel vecchio Mib 30 che poi è diventato Mib 40 ed è qua che poi è nato il tutto per quanto mi riguarda la borsa italiana chiudeva alle 5.25 lui a 5.30 lui usciva dal lavoro dall'ufficio alle 17 fino alle 18 non rientrava a casa e quindi era mia premura andare a pagina 311 del televideo appuntare tutti i prezzi di chiusura e così che quando lui poi tornava a casa aveva comunque tutte le quotazioni tenete conto che non c'era ancora internet tenete conto che i più moderni, i più tecnologici, i nerd dell'epoca si affidavano a Tenfor che era tipo un'antenna parabolica che vi riportava i dati per tutti i comuni mortali o si andava fuori dalle banche a vedere questi televisori lì col tubo catodico per vedere quali erano le quotazioni oppure c'era il televideo ovviamente con quotazioni in ritardo di 10-15 minuti quindi immaginate per chi voleva fare scalping la comodità ovviamente scalping non esisteva fondamentalmente c'era una sorta di cassettisti ma le azioni pompavano talmente tanto che dopo due o tre giorni uno aveva già in tasca un 10-15% del controvalore nominale ben presto si chiudeva baracca e si portavano a casa i provetti qua è iniziata la mia passione per i mercati non ovviamente non che io ci tradassi neanche che capivo bene il concetto di fondo di tutti questi meccanismi erano semplicemente dei numeri numeri che sono iniziate a diventare interessanti adesso non ricordo se era il 98 o il 99 comunque giù di lì ricordo un aneddoto ben preciso nonostante io ancora non avessi una partecipazione proattiva nella cosa giusto per darvi un'idea alla cena di Natale del 1900 fine degli anni 90 mentre di solito i nonni si aggiravano le mance intorno ai 50.000 lire barra 100.000 lire entrambi i miei zii che erano tra virgolette in società con mio padre insieme a mio papà era quello che mandava avanti i portafogli anche per mio zio e mia zia mi hanno allungato una busta con dentro un milione di lire e diciamo che la cosa un po' mi ha scosso ed è lì ho detto beh perché mi devo spaccare la schiena in una fabbrica da grande faccio anch'io il trader ecco se è così che vanno le cose cioè la gente nel mondo non ha capito niente grazie a mio padre che mi ha fatto vedere questa scorciatoia sono ricco mi prendo la mia amata Ferrari che è sempre stato un sogno da quando sono ragazzino sapete bene che come le migliori favole non sempre vanno a finire bene tant'è che è passato davvero pochissimo tempo e la mia famiglia si è trovata di fronte a queste due situazioni come ho sempre detto mio padre ha avuto un minimo di lungimiranza che sia a mia sorella che al sottoscritto è andato a disinvestire buona parte dei suoi capitali investendoli nell'immobiliare non è che sia stata una grandissima scelta anche quella dopo quello che è successo ma ovviamente è sempre meglio che lasciarle in questa bellissima bolla che come vedete c'è uno spillino pronto a farla saltare in aria la fantomatica bolla speculativa che ha interessato la maggior parte dei titoli internet proprio a cavallo degli anni 2000 queste società che avevano un mezzo dipendente costruite in un garage che all'improvviso avevano la stessa visibilità di colossi grandi con capitalizzazione di centinaia di migliaia di dollari hanno totalmente scombussolato quello che era il concetto di mercato il concetto di investimento anche la più piccola società poteva valere un sacco di soldi anche se non c'era un minimo libro contabile che andasse a giustificare queste performance è qua che è partita la speculazione più aggressiva sui mercati è qua che è diventato un effetto quasi virale che anche l'ultima persona della scala sociale andava in borsa, investiva e guadagnava ovviamente esattamente come è successo negli anni prima e negli anni dopo questo non poteva proseguire c'è stata un'iniziale crisi che già ha battuto le quotazioni e non di poco che poi ovviamente con l'11 settembre ha arraso tutto il suolo non solo le torri ma chi c'era anche i mercati sapete che giusto per darvi un'idea a mio padre su un titolo c'era ancora in carico adesso oramai è lì si tratta di vale qualche euro e ovviamente non lo recupererà mai più lo tieni quasi per ricordo che peraltro ovviamente sono situazioni che fanno molto ma molto ma molto male non ero ancora ripeto cosciente di quello che effettivamente stava succedendo ho visto comunque sia i miei familiari compreso mia zia eccetera che invece i soldi e la borsa ci hanno sempre creduto non dico andare in difficoltà ma risentire molto della cosa e per me era un po' come un sogno giovanile che si andava a spezzare io poi ho iniziato i miei studi inizialmente in campo informatico e poi comunque amante dell'economia amante della finanza in generale ho deciso finito il diploma in informatica di iscrivermi comunque economia e finanza e nel 2007 quasi in maniera inaspettata oramai non ci credevo più comunque era una cosa che era passata in secondo piano anche perché a 21 anni avevo in mente solo una cosa e non certo erano i mercati tanto meno lo studio invece il destino ha voluto che mentre stavo andando ad aggiustare un computer giusto per arrotondare perché non è che me la passassi benissimo ho incontrato quello che è poi stato una mia grande figura il promotore finanziario che abitava nella mia zona lui mi ha fatto un discorso del tipo che oramai era vicino ai 50 anni non aveva figli aveva sempre avuto la grande passione per i mercati e cercava comunque un ragazzo che con entusiasmo con buone capacità informatiche per trasmettergli poi questa sua esperienza e da qua quindi nel 2007 io l'ho messo come primo giorno di scuola perché effettivamente mentre prima avevo sempre visto nonostante la giovane età ovviamente i mercati come una cosa aleatoria che prima aveva rappresentato il sogno di una ricchezza e poi a cui mi è stato messo di fronte invece la brutta realtà è diventato un percorso un inizio che in maniera un po' burrascosa perché adesso ve lo racconto è quasi dell'incredibile la cosa però fondamentalmente lì ho preso in mano il mio primo mouse e ho schiacciato il mio primo pulsante trasmetti anzi non l'ho schiacciato perché ovviamente era nel promotore il portafoglio io non ho mai toccato niente ho solo fatto delle grandi analisi su un titolo in particolare che era il DAX ora fin qua tutto bene anzi non so se era la fortuna del principiante non so se comunque a 21 anni uno ha ancora i neuroni che funzionano alla grandissima ci beccavo ci beccavo e anche tanto nel senso le mie conoscenze nel campo erano veramente scarse non è che avessi indicatori e situazioni particolari una cosa che poi ripensandoci mentre proprio preparavo questo webinar mi è venuta in mente negli anni avevo solo questo grafico con solo delle candere e fondamentalmente senza l'uso di indicatori dicevo ad Alessandro guarda secondo me qua il titolo si riprende secondo me qua va a invertire insomma solo con l'osservazione del titolo costante avevo ingranato che qualcosa si poteva andare a definire e comunque chi usa il DAX sa che il DAX paga e paga bene il mio sogno in questo caso un po' drogato meno nobile come era da ragazzino è tornato in auge e di conseguenza ho aperto comunque nel 2007 il mio primo conto la prospettiva era ovviamente quella di diventare un trader milionario che spaccava tutto e tutti e purtroppo per fortuna è stato davvero così siamo nel 2007 mentre in questo caso sono passati dieci anni poco meno dalla prima bolla speculativa il mercato era molto cambiato i contratti future erano alla portata di tutti non si poteva più andare solo long ma si poteva andare anche short ripeto più per fortuna che per altro mi sono trovato nel momento giusto dalla parte giusta quindi usando il DAX con a fianco Alessandro ho fatto veramente dei gran bei soldi senza mai pormi il problema che la cosa poteva andare anche nel verso totalmente opposto ripeto ero nel posto giusto nel momento giusto non ero né bravo né avevo informazioni né tutto quello che volete questa cosa mi ha un po' drogato ovviamente ho anche momentaneamente abbandonato gli studi perché ho detto chi se ne frega di fare l'università se le prospettive sono queste da bambino da ragazzino ci vedevo davvero bene e ho iniziato a capire molte cose che in realtà poi il mercato non era così il DAX statisticamente dopo un anno perché ho fatto quasi un anno e tre mesi perché veramente ho fatto veramente ma veramente bene il mercato come nella maggior parte dei casi è andato a riprendersi tutto quindi il 2008 per me è stata una grandissima lezione perché adesso non solo io ripeto ne parlo ma per il beneficio di tutti ma vi assicuro che mi erode ancora la cosa mi fa ancora male perché comunque a 22 anni bruciarsi praticamente tutti i miei risparmi oltre che da incoscienti anche a livello psicologico mi aveva messo in una condizione davvero poco piacevole avevo praticamente accantonato i miei studi in economia non c'avevo più una lira e l'unico mezzo su cui io confidavo per il mio futuro per la mia ricchezza ovvero il mercato mi aveva dato uno schiaffone con gli interessi che comunque mi sono trovato lì a un bivio da dire e adesso cosa faccio è stato veramente brutto uso sempre questo eufemismo almeno vi faccio sorridere un po' e vado a smorzare un po' gli animi ma vi assicuro che non ho scopato davvero per tanto tempo nonostante fossi fidanzata come vi dicevo prima mi piaceva molto quella tipologia di passatempo è una è una situazione che non auguro a nessuno dall'investitore più prudente a quello anche più sprovveduto perché sono cose che veramente ti segnano dentro e ero lì e lì per per piantare lì e non riprovarci più anzi sinceramente così è stato e così è stato per quasi due anni mi sono mi sono dato le assicurazioni ho iniziato a vendere prodotti a ramo danni e praticamente la mia vita dicevo basta con con la finanza basta con i mercati nel frattempo vi voglio raccontare anche questa situazione del 2008 che io qua ero ancora vivo il DAX mi stava ancora mi stava dando ancora soddisfazioni a prescindere dagli errori che avevo fatto io questo era un po' un emblema un grande messaggio che avevo capito che comunque nulla era impossibile il petrolio per quanto io non l'avessi mai tradato era una materia prima sempre sulla bocca di tutti perché a parte che non c'erano ancora il grano ma se era difficile vederli nei traders normali la commodities per eccellenza era il petrolio comunque andava a correggere anche il prezzo della benzina insomma era molto sentita anche nell'economia reale e per quanto riguarda nei mercati finanziari era molto ma molto pedibile anche perché come il DAX si muoveva forte basta guardare io ho preso qua delle candele dovrebbero essere settimanali o mensili se guardate dall'88 al 2004 il petrolio è sempre rimasto in un range abbastanza limitato abbastanza ristretto certo c'è di mezzo la crisi in Iraq la guerra nel Golfo ok però il range è strutturato in un'ottica abbastanza lineare dal 2005 in poi è iniziata una ripresa che pian piano ha alzato le contrattazioni ma quello ci può anche stare guardate quello che succede invece a cavallo del 2008 io ero ripeto ero ancora nell'ufficio con Alessandro avevamo diversi trader a che tradavano noi facevamo diciamo solo da supervisori quasi da assistenti perché avevano una grande libertà di azione ho visto persone giocarsi le mutande letteralmente sul petrolio e vi parlo di tempi in cui non come adesso che siamo in crisi uno apre il conto con 3.000 euro tiene i suoi risparmi ben al sicuro sta molto attento al rischio cioè eravamo veramente in un in un clima economico di grande fervore cioè la gente apriva conti con 200 300 400 mila euro era l'ordine del giorno ho visto persone perdere tutto solo per la convinzione che il petrolio non poteva andare a 75 ne ha spazzati via un sacco lì dicevano non può arrivare a 100 anche perché vedete si è fermato anche un paio di volte sempre a shortare sempre a mediare il petrolio è andato a ridosso dei 150 dollari al barile per poi ricrollare ancora praticamente di colpo nel giro di qualche mese io sono la mia avventura è finita qua io mi ricordo che avevo salutato il petrolio era ancora sopra i 100 quando mi è successo l'evento funesto e ho capito che comunque era stato un ulteriore conferma oltre alla mia disgrazia personale che bastava veramente un attimo bastava perdere il controllo della situazione bastava intestardirsi su un qualcosa solo perché non era mai successo e questi poi erano i risultati ecco perché mi sono dato alle assicurazioni poi pian piano comunque mio padre ha tenuto il botto in un galleggiamento quasi stratosferico senza mai adeguarsi alle nuovi strumenti finanziari nuove categorie eccetera ha sempre fatto il trader su italiano fino a circa 4 anni fa quando poi l'ho deviato ma questa è un'altra storia mentre vendevo assicurazioni incredibilmente ero in affiancamento a un appuntamento con un mio collega dove era l'appuntamento a Codogno in via Vittorio Emanuele sono tornato dopo due anni e mezzo nell'ufficio di Alessandro dove tutto era successo vi giuro sulla mia vita che è data proprio così e io mi sono trovato lì ho detto probabilmente è il destino che mi porta qua ecco ho iniziato pian piano a riprendere in mano i mercati ero un po' più maturo e la mia situazione di non avere una lira in tasca era un po' cambiata grazie al lavoro quindi potevo anche permettermi una visione in più non c'era più solo il DAX che mi marginava come un un cane impazzito ma c'erano anche strumenti molto più tranquilli la scottatura mia e la scottatura che ho visto con queste tipologie di mercati con anche la crisi che era successa nel 2007 dei muti subprime mi ha oggettivamente cambiato e lì ho detto o lo faccio tento il botto come l'ultima volta o faccio un qualcosa di un pochettino più costruttivo e ovviamente ovvero mi muovo in un modo un pochettino più da investitore serio e qua è partita diciamo la mia la mia seconda vita da trader io sono sempre stato un trader in intraday quello è indubbio nel senso per me il concetto di restare aperto overnight era un qualcosa incomprensibile inizialmente per ragioni di margini poi proprio per ragioni di emotività mia e poi ad Alessandro ha conosciuto il nostro amministratore e nel 2011 è nata poi assistenza brokers qua diciamo è stata la mia svolta vera e propria in questa in questa carriera da nell'industria finanziaria svolta che inizialmente mi ha regalato un sacco di educazione ma anche un sacco di sorprese ve ne racconto una su tutte giusto per avere l'idea di poi come tutto è nato e perché adesso ci troviamo qua in più di 80 e voi siete qua ad ascoltarvi sono quasi lusingato ma è andata proprio così abbiamo avuto questa Alessandro e l'amministratore questa opportunità grazie a Interactive Broker di rappresentare la clientela italiana il contratto era estremamente semplice noi aiutavamo coloro che volevano aprire un conto su Interactive i trader stradavano e noi ci beccavamo una parte delle commissioni e io quindi mi vedevo già lì con i piedi sulla scrivania a comunque a farmi i miei trade quotidiani che era comunque il mio hobby e dall'altra parte voi che tradavate dietro che mi generavate soldi troppo bello per essere vero ho detto c'è qualcosa che non va poi ho capito cosa c'era che non andava che semplicemente quello che tutti gli errori tutte le sensazioni negative tutte veramente le cose che non andavano fatte sul mercato e io le ho fatte dalla ricerca poi spasmodica di avere un metodo da tutte quelle situazioni lì che vi hanno portato negatività le avevo fatte io e mi sono reso conto che in giro per l'Italia non è che ci fossero dei grandissimi trader noi eravamo anche fortunati perché comunque che arrivava su Interactive era già abbastanza sfoltito diciamo da tutti i vari broker che ti fanno aprire con 200 dollari che già vanno ad accantonare un po' di persone ai broker un attimino diciamo una via di mezzo buone realtà a livello italiano che hanno permesso di crescere e maturare e comunque anche fare mercato e poi chi effettivamente era bravo si trovava di fronte anche a un risparmio evidente presso Interactive e anche la possibilità comunque di operare in tutto il mondo senza essere legati a 750 broker comunque c'era già dietro una sorta di maturità che mi ha portato quindi a contatto con sì probabilmente i migliori traders d'Italia perché ne ho diversi che sono veramente bravissimi e reincarnano appieno quello che era il mio sogno sin da ragazzino poi ho capito che non sempre con tutti è possibile arrivare a quei livelli lì ma anche se ci avviciniamo vi assicuro che non si sta male dall'altra parte è diventata da una parte una mia sfida personale come vi dico sempre nella vita non si vive solo per i soldi una mia sfida personale che visto che a noi piace molto il contatto umano parliamo con tutti i traders che nel momento si aprono il conto ogni trader ha una piccola storia e sarebbe ingiusto da parte mia ma adesso dico anche da parte nostra perché siamo oramai in tanti qua omettervi quella che è la triste realtà omettervi quella che per noi sono state mazzate all'inizio della nostra carriera in altre situazioni è più comodo per un riscontro economico personale e infiocchettarlo per bene far vedere solo il lato bello dei mercati gente che vi scrive da bordo piscina gente che viaggia sulla sua Ferrari che a volte è un fotovoltaggio ecco noi siamo un po' a volte quelli che devono rimettere i traders con i piedi per terra e dall'altra parte la voglia di oltre a voglia di far bene ovviamente come vi accennavo anche un riscontro economico che non è mai malvagio nel senso che dal momento in cui un trader trada bene per me è comunque per noi è un'entrata aggiuntiva a quello che già è il nostro lavoro che male non fa ecco perché abbiamo l'interesse diretto che tutti voi facciate bene da una parte sì c'è la parte morale ma dall'altra parte ovviamente c'è anche un interesse e da qua è nato il trading club sono migliorato tantissimo non ve lo nascondo è quello che dico sempre grazie a voi se adesso sono qua cioè io dal lasciamo stare quando ero un bambino diciamo ma da quando ho portato il mio primo conto nel 2007 al 2011 io ero un trader cazzarone ma veramente una volta mi è andata male l'altra volta già l'ho affrontato con uno spirito più maturo ma nulla che vedere con quello che io adesso considero traders che ho visto poi e conosciuto su Interactive e da qua è nato il trading club sia la parte intraday sia la parte multiday e è abbastanza anche eloquente l'immagine che raffigura diciamo assistenza brokers prima e dopo qua abbiamo iniziato praticamente in uno scantinato e penso che qualcuno dopo che ha fatto visita nei nostri uffici scappava e diceva questi qua sono dei truffatori c'è sotto qualcosa perché non eravamo proprio l'emblema di un ufficio che uno si aspetta nel momento in cui decide di aprire il conto con uno dei più grandi broker al mondo ma questa come vedete l'onestà paga più anche del luogo effettivo in cui ci si trova e poi questa è l'immagine che abbiamo scattato comunque alla festa di fine anno dell'anno scorso che penso renda anche l'idea che di quello che nel nostro piccolo siamo riusciti a fare e è un sogno che per me adesso è ritornato in realtà ovviamente lo vedo col sorriso ma ciò non mi distoglie mai da quei momenti difficili che ovviamente mi hanno segnato e mi hanno cambiato io dico sempre il mercato non va mai visto con paura perché con la paura non si va da nessuna parte vi assicuro che non sarete mai profittevoli o lo sarete molto a fase alterne ma non è bello operare a seconda di quello che è il vostro stato d'animo trattarlo con rispetto però sì il rispetto non deve mai mancare il mercato vi può dare anche delle ottime soddisfazioni non abusatene perché non è come ve lo descrivono una macchina da soldi che schiacciate un pulsante vi scendono centinaia di euro o scrollate una pianta e scendono gli euro non voglio mancare di rispetto a nessuno ma pensate veramente che se fosse così tutto il mondo lo farebbe trading ovviamente una triste realtà c'è dietro la chiamo triste realtà perché molto spesso altre persone se ne approfittano appoggiandosi alla disperazione della gente gente che magari ha perso un lavoro gente che è in difficoltà e si fa prendere da queste situazioni che uno si aggrappa tutto è come quando ci si rivolge a dei santoni o a dei maghi insomma sappiamo bene che la realtà di fondo non è proprio così però in preda alla disperazione siamo portati anche a fare gesti che esolano anche da quello che potrebbe essere un discorso razionale ecco questo da noi non succede ve lo garantisco per un interesse personale ve lo ripeto quindi non sono qua a fare io il predicatore ma sono cose che vanno assolutamente tenute in considerazione e qua arriviamo a una piccola celebrazione mia personale dopo tutte queste peripezie dopo tutti questi casini che ho combinato eccomi qua che tra qualche mese invece saluterò questa bellissima realtà quello che dovevo fare signori io l'ho fatto c'è qua una squadra che comunque sarà pronta a starvi vicino ad assistervi e diciamo che dall'anno prossimo non mi troverò solo a gestire il mio conticino ma sarò una realtà un pochettino più grande che mi permetterà di continuare quello che è il mio grande sogno e spero che lo diventi anche il vostro perché veramente fare ciò che ti piace è una grandissima soddisfazione e a prescindere ripeto da quello che poi è il ritorno economico è una cosa che auguro un po' a tutti detto questo magari qualcuno si aspettava il metodo segreto qualche indicatore magico qualche situazione che vi desse uno spunto in più per domani affrontare meglio la seduta di mercato sto facendo i salti mortali per spiegarlo ai miei traders nel giro di tre settimane figuriamoci se in un'intervista di un quarto d'ora ve lo posso dare a mio avviso già il fatto che anche persone competenti in materia si possono fare davvero male sia una per chi in questo momento non voglio guardare del male ovviamente a nessuno guadagnate guadagnate sempre si rende conto che comunque sta avendo delle soddisfazioni non tanto perché è premiato dal mercato ma perché si trova in una situazione al momento giusto nel posto giusto ve lo dico davvero con tutta la sincerità di questo mondo state attenti date un'occhiata effettivamente a quello che sta succedendo perché se è comunque un hobby lo si vive in maniera distaccata ci sta la perdita ci sta una situazione negativa se è veramente quello che volete fare da qua ai prossimi anni farlo diventare una professione primaria non fate in modo che succeda perché poi sono cose che vi segnano e ricominciare davvero 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 difficile se non è stata per una fortuna nel mio caso perché un mio collega aveva preso un appuntamento per un'assicurazione in quello che era il mio ex titolare io probabilmente con i mercati non avrei mai ripreso quindi non fate in modo che una cosa del genere succeda anche a voi io Stefano ti ringrazio e ti ringraziano tanto anche le persone che ci stanno ascoltando qualcuno insomma si è rivisto in quella che è stata la tua esperienza che è un'esperienza che comunque ha accumulato tanti noi la cosa che mi ha fatto un po' sorridere intanto che ti ascoltavo perché io e Stefano ci conosciamo da tanto tempo però anche io quando ho fatto un po' la presentazione della insomma del mio trascorso il 2007 è stato un anno ecco importante solo che io invece mi ero andato a frantumare più che altro sull'euro dollar ma questa è questione di insomma questione di di scelte però bene o male insomma l'inizio spesso e purtroppo è quello e quindi sapete alla fine Stefano incarna veramente lo spirito di assistenza broker dove noi non vogliamo che le nostre esperienze siano state comunque esperienze vane perché per quanto i nostri soldi almeno inizialmente dato che non venivamo ecco da esperienze lavorative importanti non fossero in termini assoluti mettiamola così tantissimi però chiaramente quando si è un po' più ragazzi ecco forse sono di più di decine e decine di migliaia di di euro di adesso quindi anche per me è davvero una grande soddisfazione insomma l'idea di poter continuare questo percorso insieme a Stefano col quale ho iniziato insieme a Matteo insieme insomma a tutti i nostri insomma a tutti i miei colleghi a tutti voi quindi ringrazio ancora una volta Stefano ma soprattutto siccome abbiamo parlato tanto del passato di quello che è successo qui c'è un bel 2016 Stefano vorrei tanto ecco chiederti cosa ne sarà del futuro non tanto ecco di dove te ne andrai di bello perché questo sì è interessante ci piace ci manderai anche delle belle cartoline figurati però parliamo anche di cosa succederà in futuro per te con magari qualcun altro sui mercati eh sì perché se no se dal canto mio l'amministratore mi licenzia prima che io prenda l'aereo quindi per tutti coloro che non vogliono rivivere quello che ho fatto io adesso a parte gli scherzi poi aprirò anche il microfono qualcuno dai che almeno se le dico io le cose è un conto se le dici qualcun altro è un altro recentemente tipo recentemente parlo di tre settimane fa dopo un progetto di beta durato veramente tanto ma tanto tempo ho avuto l'onore e il piacere di abbracciare questa nuova edizione diciamo questa costola del trading club che oramai vi accompagna da dieci edizioni ci avete richiesto in tanti qualcosa in più adatto a coloro che ah forse amanti dell'intraday come me che comunque funziona con dinamiche totalmente differenti rispetto a una dinamica da investitore ma soprattutto coloro che vogliano fare il salto e farlo diventare non solo un hobby come mi dicevo prima ma proprio una professione quindi un reddito primario su base mensile siamo partiti due settimane fa siamo nell'ultima adesso io non vorrei peccare troppo di arroganza ma vi dico penso che sia il corso più bello che sia mai stato fatto qua in assistenza brokers e io mi sto divertendo un sacco nonostante non sia sempre semplicissimo seguire tante teste ogni testa è un piccolo mondo stiamo davvero accompagnando passo a passo traders provenienti da esperienze diverse alcuni alle prime armi che lo dico probabilmente non sapete cosa vi abbiamo rispermiato altri invece già navigati alcuni che mi hanno detto specialmente Stefano questa è la mia ultima opportunità questa è l'ultima volta che vi voglio mettere in gioco non deludermi non credo che li sto deludendo io adesso se magari vedo Angelo qua o il buon Francesco se vi posso oprire un secondo il microfono almeno non sono io a dirglielo ma siete voi ecco è un'esperienza davvero bellissima io dico sempre avrei pagato e avrei annunciato tantissimi dei miei profitti che poi si sono rivelati dei fantaprofitti perché trasformati in perdite per avere qualcuno che mi condensasse tutto ciò non solo da parte mia ovviamente che io sono solo un tramite della cosa ma grazie a questo elemento qua che vedete nella parte bassa che è stato colui che mi ha veramente insegnato come stare sui mercati come stare con ovviamente un vantaggio statistico non stare per passare il tempo o per schiacciare un pulsante lui lo fa di professione lui lo fa da anni e come dicevo ho la fortuna di averlo qua su interatti come tantissimi altri e mi ha dato una grande mano e ci sta dando una grande mano in questa nostra avventura cosa andiamo a fare andiamo a la nostra operatività è basata sui gradi investitori gli istituzionali andiamo a cercarli a scovarli e invece che combatterli ci accodiamo loro semplice se non posso sconfiggere il mio nemico preferisco allearmi probabilmente in termini assoluti un filino vigliacco ma fondamentalmente piuttosto di perdere i soldi sui mercati visto che gli amici veri li abbiamo nel mondo reale e non li ritroviamo in strumenti finanziari vi assicuro che avere la statistica dalla nostra parte male non ci fa questo è il principio che va dietro il corpo di tutta la nostra operatività come vi accennavo un'operatività intraday quindi adatta sia coloro che hanno una buona capitalizzazione in ottica di diversificazione ma anche coloro che hanno capitali abbastanza risicati e di conseguenza è quasi impensabile nonostante qualcuno vi dice che si può fare spread trading con 4.000 euro approcciarsi a operatività simili senza la giusta capitalizzazione le soddisfazioni possono essere tantissime in termini percentuali ovviamente ma c'è anche dietro tutta una componente psicologica uno che fa in 3 day si basa tutto sulle statistiche e possono capitare situazioni in cui queste statistiche non sono proprio della nostra il vero segreto è quello di comunque proseguire perseverarne e farne una dinamica di tipo mensile altrimenti ci si va a fermare e ci si perde in una delle 750 variabili per cui perdiamo buona parte di quelli che sono i nostri traders in 3 day che non perché noi siamo bravi non vogliono ascoltarci semplicemente pensano che i soldi ce li regalano Francesco ci sei? No dai sentiamo il buon Angelo Angelo Pronto? Ciao Angelo scusa eh scusa la diretta non ti ho neanche avvisato mi sono permesso di hai fatto bene grazie mille grazie mille allora tu sei venuto nel nostro ufficio e non sei scappato già un buon segno ma hai fatto di più hai deciso anche di seguirci in questa avventura vorrei che fossi tu raccontare cosa stai vivendo prima cosa hai vissuto nel trading club e adesso in questo in 3 day club allora nel trading club di prima ho perfezionato diciamo la mia tecnica che già anche io ho una storia molto simile alla vostra dal 2006 che opero in reale ho aperto il conto in interactive broker che voi non esistavate ancora con quei corsi del weekend diciamo poi delusione totale ho smesso per qualche anno un sacco di strane cose del mio lavoro come responsabile direttore d'azienda così mi ha portato a dovermi dimettere e smettere per questa crisi e altre cose il 24 d'aprile ho conosciuto voi me la sono segnata Stefano ho conosciuto voi te l'ho detto segna di questa data me la sono segnata e ho iniziato col trading club multi day ho risistemato la mia operatività in opzioni che quella è abbastanza consolidata in me vado abbastanza regolarmente è così ho conosciuto lo spread trading che anche quello mi piace molto e avevo progettato appunto di fare l'intraday e questo sto facendo con il vostro trading club intraday sono soddisfattissimo consiglierei a tutti di farlo immediatamente a chi gli piace questo tipo di di cosa ho visto in queste due settimane tre che stiamo facendo che le cose tutti i giorni miglioravano migliorano 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 e gli ultimi passi li stiamo facendo in questi giorni e tutto si sta rivelando come non so se è giusto dire come ci avete promesso insomma ecco e sono soddisfattissimo non posso far altro che di me angelo ti ho fatto una promessa la stiamo mantenendo grazie di cuore adesso davvero ci vediamo domani sempre alle 18.15 in diretta grazie a voi grazie angelo visto che magari uno potete pensare che abbiamo dato la bustarella il buon Francesco che prima non si era attivato il microfono vediamo adesso se lo attiviamo avvocato Francesco non posso dire il cognome ovviamente però se no anche lui mi fa causa e mi cede il penale sulla cosa scherzo ovviamente anche lui Francesco vediamo non c'è problema signore comunque a prescindere da tutto una cosa che voglio precisare non siamo qua a vendere corsi ovviamente siamo un broker rappresentiamo un broker il nostro interesse è di tutt'altro genere questi aspetti sono stati creati proprio per questa difficoltà da parte di molti traders italiani di trovare la loro strada perché purtroppo la nostra realtà non è che sia quella tra le più pulite tra le più oneste e molto spesso certe situazioni fino a quando uno perde qualche soldino in conto approfittarsi della bontà della gente davvero mi sembra poco piacevole ecco ti qua Francesco non riuscivo a farmi sentire Stefano figurati figurati io soltanto un secondo perché non voglio rubare tempo volevo ringraziarti e la tua storia dico quello che ho già scritto in chat che la storia che hai raccontato così come anche lo dico fuori da ogni retorica sinceramente la storia di Matteo di Andrea sono così reali così comuni storie di ragazzi comuni insomma che danno coraggio persone partite appunto da basi normali che sono arrivate dove vogliono insomma è la trasmissione di un sogno ma che ha una base realistica quindi è una cosa bellissima io dal canto mio mi sto appassionando molto anche al tuo tipo di trading così come mi ero appassionato alle opzioni ai futures spero di riuscire ma vedo già che dopo due giorni di prova in demo le basi ci sono le soglie funzionano bisogna essere disciplinati e studiare e percorrere i vari step credo io cosa che io personalmente farò vorrò fare e con grande fiducia nel futuro anche per quanto mi riguarda ti volevo ringraziare e ringraziare tutti voi ma figurati grazie a te grazie a te delle vere parole Francesco ascolto qua ci chiedono ma cos'è l'intraday glielo spieghi tu? ah beh l'intraday club è praticamente il metodo di trading sui future sullo standard del course o sul Nasdaq che praticamente fa del trading a breve termine con certi approcci con una certa metodologia il suo punto di forza non si lasciano aperte operazioni dopo la chiusura dei mercati e quindi si sta più tranquilli anche come dicevi tu durante la trasmissione è una cosa bellissima provateci ecco io dico questo ecco perché ti stavo dicendo adesso me l'hai detto da avvocato dimmelo da amico che incontri al bar dico che è una cosa entusiasmante che dà molta adrenalina per la quale però ci si deve mettere in gioco soprattutto per quanto riguarda la propria emotività e la propria capacità di autodisciplina e queste sono cose che mettono in gioco la persona e quindi sono sono belle perché formano anche il carattere mettono alla prova il carattere di una persona io mi sto appassionando per questo anche Francesco grazie davvero per il tuo contributo come ringrazio di nuovo Angelo signori grazie grazie davvero dico sempre siete voi la nostra forza come sempre come ci caratterizza sempre il nostro stile ripeto non siamo qua a vendere corsi quindi se qualcuno comunque pensa che questa avventura possa fare al caso suo 15 minuti ve li concedo più che volentieri ho detto di no a diverse persone giusto per mantenere una sorta di eticità perché se uno lavora tutto il giorno davvero fa fatica a fare intraday piuttosto dedicatevi a fare dell'altro quindi se pensate che possa essere la vostra strada oppure in realtà lo è già la vostra strada da diverso tempo ma non vedete i risultati facciamoci una chiacchierata senza impegno sarà un piacere avervi dei vostri il 19 di ottobre noi ripartiamo saranno altre tre settimane assieme chi si è fatto questo intraday club l'ho fatto entrare anche per il prossimo giusto perché per dimostrargli che più imparate meglio è quindi non è neanche una questione di tassametro e fatto un'ora in più un'ora in meno quindi fateci uno squillo mandateci una mail più che lieto di fare due chiacchiere con voi conoscere nuovi traders che per me comunque è sempre una nuova ispirazione e mi mantiene sempre sul pezzo signori per stasera è tutto spero di non avervi annoiato spero comunque di avervi dato un'ispirazione non tanto perché la mia storia è divertente è a volte tragica e a volte è anche disinteressata più che altro ripeto se minimamente posso darvi un aiuto ben lieto di farlo grazie ancora per l'attenzione rimanete sintonizzati nei prossimi giorni avremo sempre tantissimi eventi in diretta e per tutti i miei amici dell'intraday car che vedo qua presenti ci vediamo domani in diretta alle 18.15 ovviamente sono agli 15.30 ciao a tutti e grazie ancora grazie a tutti